Musica Quindi iniziamo subito perché sennò finiamo praticamente alle 6 di domani mattina faccio capodanno ragazze assieme a voi Musica Ciao ragazzi e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Sono le due di notte, non sto scherzando, non posso gridare Sto registrando questo video, mi freddommolo tutti Ci dico tantissimo a farvi questo video Perché vi è tanto tanto piaciuto quell'altro delle idee regalo che vi ho fatto fai da te Che per chi se lo fosse perso ve lo lascia in sua impressione cliccabile qui da qualche parte Mi avete messo tanti like, tanti commenti E come sapete io veramente vi ringrazio tantissimo per tutto il supporto che guardate Soprattutto per questi video di ricette che comunque sono più impegnativi Ci metto tanta tanta passione Quando poi vedo che voi li apprezzate Allora mi viene tanta voglia di farmi tanti altri perché adoro farmi Quindi mi fa piacere che li apprezzate Quindi ho detto no, le faccio un'altra perché ho detto ragazzi se raggiungo tanti tanti like Faccio un altro video prima di Natale Quindi assolutamente lo devo fare, ho mantenuto la promessa E stavolta ragazzi Cosa veramente bellissima per tante di voi È successo quello che voi mi avete sempre sempre chiesto Cioè volevate da me ricette puramente casalinghe Con le cose che abbiamo in cucina Quante volte me l'avete chiesto ragazzi? Veramente tante tante volte Adesso è il momento giusto È arrivato il momento perché praticamente io Tutte le mie materie prime della mia stanza cosmeticosa Stanno all'altra casa Quindi qua praticamente non ho nulla Ho semplicemente le cose della cucina E quindi come faccio? Mancano pochi giorni, manca un giorno a Natale Come faccio? Voglio preparare un regalino super super economico Non solo per Natale ma per qualsiasi occasione Questo caso per Natale veramente lo potete fare Aprite la cucina e lo fate Sono tre idee carinissime che mi sono venute in mente In pappino a parlare perché sono troppo troppo entusiasta di queste idee Vi farò vedere non solo le ricettine ma anche un po' la decorazione del pacco Quindi iniziamo subito perché se no finiamo praticamente alle fie di domani mattina Faccio capodanno ragazze Assieme a voi Vabbè Comunque sono felicitime anche per E non spero però vi non comprimi Ho pensato per voi Tre ricettine facilissime Veramente veramente facili Allora io ho trovato questo contenitorino L'ho comprato al supermercato E veramente mi ha colpito Ho detto subito Secondo me questo è fantastico Proprio per Natale Troppo troppo carino il natalizio Guardate che carino Troppo troppo bello E dovrebbe esservi un contenitore di quelli da cucina L'ho pagato intorno a un euro Insomma si trovano negozi per casalinghi Tutto casa Ma anche al suo mercato Alla coppia E troppo troppo bello E di vetro Ma comunque potete anche utilizzare questi contenitori qua Magari metterci un po' di carta rossa sopra Questi delle conserve Così facciamo proprio una cosa casalinga Infatti io prima pensavo di utilizzare questo Poi ho visto questo qua Costava poco e l'ho comprato Quindi assolutamente quello che trovate Siamo con la prima ricettina Bellissimo scrub corpo Che so che vi piace tantissimo Anche a me io lo adoro Guardate io vado semplicemente a versare qua dentro Tutti gli ingredienti Così facciamo presto 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 E domani portate il regalo a vostra amica A vostra zia E fate anche una bella figura Seguitemi ragazze Ci vado a mettere lo zucchero integrale di canna qua dentro Guardate Non sporco neanche nulla Direttamente Se vi avete quello bianco In questo caso va benissimo Comunque perché comunque deve svolgere solo un'azione esfoliante Per le dosi è inutile che ve le scrivo Perché vi dovete regolare in base al vostro contenitore Cioè voi dovete riempire il contenitore Quasi completamente Quasi sagolosa al cacao Perché secondo me al zoccolato piace a tutti E quindi penso di metterci anche un po' di cacao Pensate a questa cosettina Voi mi raccomando guardate sempre sul blog Dove io comunque vi scrivo Anche se sono ingredienti che avete Delle possibili sostituzioni Se qualcosa vi manca www.calitadolce.com Ogni volta che faccio questi video di ricette In tante mi dite Ah che bello vederti fare queste ricette Mi piace tantissimo Insomma Non potete immaginare quanto piace a me Veramente Poi soprattutto quando le faccio Vedo che mi apprezzate Mettendo tanti like e commenti Mi invoglia sempre di farne tanti altri Quindi mi raccomando Mettete un bel pollice in su Che vale tantissimo per me 3 o 4 cucchiaini di cacao ragazze Che mi danno Questo profumo Bellissimo Cioè veramente Mi invoglia di mangiare così Sta roba Fantastico A questo punto ci aggiungo l'olio Io metterò adesso Un po' di olio Extravergine di oliva Mischiato E un po' di olio Olis Questo qua l'ho comprato proprio apposta Perché a me piace tantissimo L'olis A parte che costa poco Tipo sui 2 euro L'ho comprata in qualsiasi supermercato Mi piace tanto perché Ha già una profumazione Proprio di suo Chi mi segue da tanti anni lo sa Perché io sono anni che Veramente ne parlo E aspetta Cioè è chiuso Vedi non può profumare Profumo tipo di Noccioline Fantastiche Troppo troppo bene Mi piace tantissimo Utilizzarlo anche sul corpo E' fatto da ribes nero Da noce Germi di grano L'ho di riso E' molto molto carino Olio extravergine d'oliva E metà olis Potete utilizzare Qualsiasi olio Anche tutto olio d'oliva Va bene Io lo mischio un po' Perché l'olio d'oliva Un po' si sente A volte sono quelli là Forti Di olio di mandorle dolci Oppure l'olio di jojoba Qualsiasi olio Ok Quindi Vado a mescolare Bene bene Ok ragazzi La vostra consistenza Deve essere così Guardate Cioè voi mescolate bene bene Deve essere molto molto denso Vedete Tipo così Che sembra tipo una Una crema Un budino al cioccolato Buonissimo Cioè è buono no Non si mangia A questo punto Questo qua Profumaggiate un po' di cacao Però vi ho detto Che un po' l'olio si sente Quello là d'oliva Quindi io per coprire E metto un aroma E guardate qua Tatratà In questa tazzina Ho messo tutti i miei aromi Per dolci Che adesso utilizzerò Per profumare Le mie ricette Quindi non c'è bisogno Di oli essenziali Non c'è bisogno di nulla Ovviamente se ce le avete Potete anche metterli Per impreziosirli Noi stiamo facendo Una cosa casalinga Quindi con quello Che abbiamo in casa Come se stessimo Facendo una torta Fantastico Quindi adesso ci metto Un po' di questo qua Che è un aroma A mandorla Appunto quella per dolce Sicuramente se chiedete a vostra madre In cucina Sicuramente ce l'avete Troppo troppo bello Quindi metto Una fialetta Di aroma Per dolci A mandorla Bellissimo Ecco qua E mettere un po' di riso Soffiato sopra Ma non lo so se Proviamo Ecco qua Guardate che carino ragazze Troppo troppo carino Bello bello Adesso un po' affonderà Ovviamente se non ce l'avete Non lo mettete Semplicemente una cosa Per devolare Che poi tra l'altro Troppo perché Non si vede nemmeno Vabbè Comunque Troppo troppo carino E la nostra prima ricetta È pronta Come seconda ricetta Prepariamo qua dentro Anche questa bottiglina L'ho trovata Questo ce l'ho da un po' di tempo In un supermercato Oppure Nei negozi tutto casa Sono quelle là Che si usano Per versare l'olio Eccetera Di vetro Con il pappino di sughero Molto molto bene Ma potete anche riciclare Qualche bottiglia di succo Di frutta di vetro O dove c'è l'olio Basta semplicemente Lavarla bene bene Qualsiasi contenitore Che utilizzate E poi passarci un po' di alcol O con un po' di ovatta Così siete sicuri Che è disinfettato Adesso qua dentro Io vado semplicemente A riempire con l'olis Che è un olio Che già l'ho detto Ho già profumato di suo Quindi in questo caso Io non metterò solo l'olis Non lo metto L'olio d'oliva Perché sul corpo Non mi piace Ha un odore troppo forte Se non avete l'olio Utilizzate l'olio di riso Come olio da supermercato Oppure fate un mix Ad esempio Se avete olio di mandorle Di rosa moscheta Di zozoba Fate un mix di oli Fra di loro Profuma troppo Troppo bello di noccioli Qua ci vado a mettere L'aroma vaniglia Perché questo sembra Un po' nocciola vaniglia Quindi vado a empatizzare Questa cosa Ho detto quindi Una bella fialetta Di aroma vaniglia Che bello Super super profumato Adesso Praticamente Devo un po' agitare Così Ok agito E il mio oletto È pronto Super idratante E profumato Alla vaniglia Olio corpo Dopo vi faccio Come decorarla Eccolo qua Quindi due ricette Sono pronte Andiamo alla terza Terza ricettina Ho pensato di mettere In questi contenitorini Guardate come sono carini Sarebbero Tipo delle saliere Anche questo Sono pagate Tipo 60 centesimi Ognuna Sempre al supermercato Le ho comprate Riprendono un po' Il motivo della grande E qua dentro Ho pensato di metterci Di fare tipo Dei sali Da bagno Eccolo qua Sale grosso Ho vaniglia O mandorla Faccio tutto vaniglia E mandorla Metto un po' Di fragranza Mandorla Questo poi è carino Perché dai buchini Si sprigiona Tutto tutto il profumo Quindi veramente È carina questa cosa Che anche nel bagno Comunque si sente Si diffonde un po' Questo profumo Dai buchini Questo profumo Dai buchini Tazzina Faccio vedere Come potete fare Se lo volete colorare Quindi Vado a mettere Un po' Di sale grosso Appunto L'ho messo Nella tazzina Scusatemi Che purtroppo Non c'è la visuale Da vicino Eccetera Perché non ho un camera Poi non sono Nella mia stanza Cosmiticosa Quindi ho un video Un po' arrangiato Nella mia cucina Scusatemi ragazzi Però spero che vi piaccia Comunque La fraganza In questo caso Metto la fraganza Vaniglia Perché appunto L'altro l'ho fatto A mandorla Se lo voglio colorare Posso utilizzare I coloranti alimentari Per dolci Sono verde Che più natalissimo Metto qualche goccina Di questo verde Che meraviglia verde Sembra proprio L'albero di natale Troppo troppo bello Il natalizio Questo verde Bellissimo Quindi adesso Lo vado a versare Qua dentro Carino colorato Semano di cristalli Di smeraldo Bellissimi Che profumo Superbo Ma che bellino Che è Troppo Troppo carino Eccoli qua Ragazzi Pronti i nostri regalini Guardate come sono carini Questo è troppo bello Potete anche colorarli Tutte e due Oppure utilizzare Un altro colorante Ho voluto lasciare bianco Questo per farvi vedere Se anche non avete i coloranti Va bene Basta metto una fragranza Più dolce O non L'essenziale Ed è pronto Poi adesso facciamo La decorazione Visto che sono poverella Non ho neanche un cestino Ho trovato questo qua Che è il coperchio Di uno scatolo di latta Utilizzerò questo come base Appunto come vassoietto Voi ovviamente Prendete un vassoietto Un cestino Però così pure viene carino Sto scavando Una busta di decorazioni Dell'albero Avanzate Ho trovato tipo questa pagliettina Ragazzi Anche un po' dovatta Però va bene Adesso la metto su Io veramente Sto improvvisando tutto Ma guardate che bella cosa E quante cose si possono fare Riciclando Utilizzando le cose casalinghe Guardate che meraviglia Non è meraviglioso ragazzi È troppo troppo bello Qua sopra secondo me ci va qualcosa Un fiocchetto Qualcosa ci vuole Vediamo cosa posso metterci Ho trovato un nastrino Vado a fare un fiocchetto Qua sopra Che secondo me c'è questo buchetto Apposta E faccio un fiocchettino Ecco qua Così Meraviglia delle meraviglie E se volete Anche queste caramelline Così Queste Praticamente Non so come si chiamano Anche ci vanno bene Dentro Ecco qua Ma non è adorabile Oddio Che bello Bellissima Io già so Chi le regalerò Regalerò Alla mia zia Se mi sta guardando Li mando un bacio Ciao 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 Carità Questo è per te E ovviamente Qua per chiuderlo Un po' di Per chiudere un po' di Carta trasparente E vi mando un bacio grande Con questa meraviglia Sembra come un pacco Delle sorprese Delle meraviglie E se vi è piaciuto Questo video Mettete un pollice in su E al prossimo video E buon Natale Merry Christmas E voglio bene Assai Eccolo qua Ve lo faccio vedere Anche così Tutto bello incartato Ovviamente Questa è solo un'idea Potete anche poi Prendere uno scatolo O quello che volete voi Sono troppo Troppo contenta Non potete immaginare Quanto sono soddisfatta E fiera Di questa cosa Che ho fatto Guardate quanto Abbiamo speso Ovviamente Sono anche idee Super super economiche Ma molto molto carine Sicuramente Chi le avrà in regalo Ne sarà contento Perché sono cose Veramente veramente Carine Fatte col cuore E anche molto buone Per la pelle Quindi Spero tanto che vi sia piaciuto Un bacio Ciao Grazie a tutti Ciao Ciao